Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Un incidente verso le 12.30 in A13 sulla Bologna-Padova, tratto tra Ferrara Sud e Occhiobello in direzione di Padova. Si sono scontrati due mezzi pesanti che hanno occupato l'intera sede stradale. Il tratto è rimasto chiuso fino alle 14.30, la coda ha raggiunto una lunghezza che ha raggiunto anche i 6 chilometri. Nell'incidente una persona è rimasta ferita. Ieri vi avevamo raccontato che i carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza nel Padovano hanno arrestato un uomo che si esibiva in atti sessuali davanti ad un bambino di 4 anni. Episodio avvenuto davanti alla scuola di Perarolo. Ebbene, quest'uomo condannato a un anno e posto ai domiciliari è evaso dalla sua abitazione per ben due volte. E per ben due volte ha ripetuto gesti di esibizionismo. Presa di mira una bambina di 5 anni che stava andando al mercato con la zia, sempre nei pressi della scuola. Poi un'altra evasione durante la quale è andato davanti ad un panificio denudandosi. L'uomo, un cinquantenne, è stato nuovamente arrestato e sottoposto ad un altro processo per direttissima e giudicato con un ulteriore condanna ad un anno e mezzo. L'uomo è stato posto nuovamente ai domiciliari. E adesso ritorniamo ancora una volta a parlare dell'inchiesta sul Mose. Oggi si è parlato molto di Giancarlo Galane e della richiesta di arresto. Allora sentiamo la situazione, anche se la decisione definitiva per ciò che gli succederà verrà presa a Montecitorio il 15 luglio. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha votato sì all'arresto del deputato di Forza Italia Giancarlo Galane, inquisito per la vicenda Mose. A favore hanno votato 16 deputati, tre i contrari. L'ultima parola spetta all'aula di Montecitorio che si pronuncerà il 15 luglio. Contro l'arresto dell'ex governatore del Veneto Galane si sono espressi in giunta la Camera Forza Italia, Nuovo Centrodestra e PSI. Tre voti contro i 16 a favore dell'arresto, compreso il relatore Mariano Rabino. In aula Montecitorio la questione è in calendario per martedì 15 luglio alle ore 17, quando ci sarà la decisione definitiva. I PM di Milano, Roberto Pellicano e Luigi Orsi, hanno chiesto il rinnovo della misura cautelare per Roberto Meneguzzi, amministratore delegato di Palladio Finanziaria, finito in carcere il 4 giugno scorso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Venezia sul Mose, la cui posizione assieme a quella dell'ex parlamentare Marco Milanese, dell'ex generale della Guardia di Finanza Emilio Spaziante, è stata trasmessa per competenza territoriale ai magistrati milanesi sulla richiesta di custodia cautelare per Meneguzzo, accusato di corruzione, che lo scorso 21 giugno dopo aver tentato il suicidio in carcere ha ottenuto i domiciliari, dovrà decidere il GIP di Milano, Carlo Ottone De Marchi, che dovrebbe farlo entro la fine della settimana. Cambiamo completamente argomento, a Pieve di Cadore nel Bellunese si è aperta una voragine molto ampia in un giardino privato, la causa sarebbe da attribuire alle piogge intense di questi giorni, le dimensioni sono molto ampie, parliamo di un diametro massimo di 3 metri e una profondità nel punto più basso di quasi 8 metri. A titolo precauzionale, fino a quando la staticità del piano circostante non sarà verificato, le due abitazioni che si trovano nell'area più vicina alla voragine sono state fatte sgomberare sul posto, hanno lavorato i vigili del fuoco. L'iraniano arrestato nel Padovano per aver aggredito dei passanti in zona Arcella, senza ragioni, senza un motivo, è stato raggiunto da un'esecuzione di custodia cautelare in un ospedale psichiatrico giudiziario. Sentiamo. Aveva terrorizzato il quartiere Arcella a Padova perché improvvisamente si scagliava e picchiava i passanti per strada, tra le sue vittime anche un assessore della precedente giunta comunale della città, ma anche passanti che inaspettatamente erano stati aggrediti e malmenati. Autore delle violenze, un cittadino iraniano che raggiunto da ordinanza di custodia cautelare ora è stato ricoverato in una struttura psichiatrica giudiziaria in Emilia-Romagna. Lo ha disposto il PM Uganeo Benedetto Roberti. Il provvedimento è stato eseguito dalle volanti della questura di Padova che lo hanno accompagnato sul posto. È stato presentato il bilancio di previsione 2014 del Comune di Padova, il primo dopo il rinnovo del Consiglio Comunale che ha visto le elezioni di Massimo Bitonci a sindaco. Abbiamo abbassato dello 0,1% l'addizionale comunale IRPEF che a Padova era la più cara del Veneto, ha spiegato l'assessore al bilancio Stefano Grigoletto. Un'attenzione particolare è stata rivolta alla tassazione sulla prima casa. La tasi è al 2,7 per mille, 2,5 aliquota di base più 0,2 per sostenere le detrazioni a favore di chi è più in difficoltà. L'aliquota IMU è stata fissata allo 0,46%, il minimo possibile per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE allo 0,82% per gli immobili locali a titolo di abitazione principale e allo 0,58% per gli alloggi assegnati dall'ATER, allo 1,04% per tutti gli altri fabbricati. Avremmo voluto fare di più, dicono purtroppo, avendo dovuto ratificare un bilancio caratterizzato da un eccesso di spesa. Rimandiamo al prossimo anno questo obiettivo su cui stiamo già lavorando grazie al contenimento dei costi. Ad oggi, dicono dal Comune, abbiamo ridotto le spese della macchina amministrativa di 5,350,000 euro. Ancora a Padova in primo piano, blitz dei carabinieri, scoperto un albanese con 8 kg di droga, era nascosto lo stupefacente a Trebaseleghe. Sentiamo. I carabinieri di Padova hanno smantellato un grosso traffico di droga. Sequestrati 8 kg di sostanza stupefacente, 7 di eroina e 1 di hashish. La base logistica dello spaccio era nella provincia della città a Trebaseleghe. In un appartamento passato a setaccio dagli uomini dell'arma è stata trovata la droga. Era nascosta in un intercapedine ricavata dentro un armadio. In carcere è finito un uomo di nazionalità albanese. Lo spaccio della sostanza avveniva in varie località del Veneto. A Fontaniva, nel Padovano, sono intervenuti i vigili del fuoco per un incendio scoppiato in un'azienda ad andare a fuoco un silos, ma fortunatamente le fiamme sono state spente con tempestività dai vigili del fuoco arrivati da Padova. A spaventare maggiormente è stato lo scoppio molto forte e udito da tantissime persone. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Venezia hanno individuato l'autore della violenta aggressione effettuata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a mestra i danni di una giovane prostituta di origine albanese. Si tratta di un cittadino italiano. La donna era stata trovata abbandonata per la strada con il volto tumefatto e semi-incosciente. Individuato l'autore del brutale pestaggio subito da una prostituta albanese aggredita nella zona di Mestre a Venezia. Le indagini sono state condotte dagli uomini della squadra mobile lagunare che in breve tempo, raccolti alcuni elementi utili, hanno eseguito degli accertamenti scrupolosi. Gli uomini della polizia hanno ascoltato persone e visionato i filmati ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Alla fine hanno individuato un giovane di 25 anni residente in provincia di Venezia. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. La donna era stata trovata a terra sanguinante con il volto tumefatto in stato di semi-incoscienza. Tra i due era, pare, scoppiata una lite sulle modalità della prestazione sessuale. Erano arrivate a Vicenza lunedì. Stiamo parlando di 10 profughe eritrei che dovevano essere fotosegnalate e sottoposte alle varie procedure per essere ospitate sul territorio berico. Erano già state sistemate in albergo, ma le donne sono fuggite. Purtroppo capita di frequente che queste persone si allontanino, ma il problema più grave è che tra queste donne due hanno la scabbia, la malattia della pelle che è altamente contagiosa. Per questo motivo le donne sono ricercate. Rivoluzione per la revisione dei veicoli, le cui procedure di prenotazione e di aggiornamento della carta di circolazione diventano totalmente informatizzate. La rivoluzione scatta dal 14 luglio. Fate attenzione al prossimo servizio. Attenzione alla revisione dei veicoli. Dal 14 luglio cambiano le procedure e per non incorrere in guai seri i proprietari dei mezzi dovranno attenersi scrupolosamente alle nuove norme. In primis il consiglio è di guardare le date di immatricolazione di auto e camion e segnarsi le date di scadenza per evitare dimenticanze e stare al passo con i tempi richiesti. Dal 14 luglio scompare il timbro sul libretto posto dall'officina che finora attestava l'esito positivo dei controlli effettuati. Tutto verrà comunicato per via telematica dagli operatori che effettuano la revisione alla motorizzazione. Questo permetterà agli organi competenti al controllo di tenere monitorata la correttezza delle revisioni. Il nuovo sistema impone all'operatore che ha effettuato gli accertamenti tecnici di inserire entro il limite massimo di un'ora dal termine della revisione i dati di esito dei controlli nel sistema informatico. Successivamente verrà stampato il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione da consegnare all'automobilista. Inoltre non sarà possibile procedere ai controlli se gli operatori non avranno prima inserito le prenotazioni delle sedute di revisione esclusivamente attraverso procedure telematiche. Le prenotazioni così effettuate dovranno obbligatoriamente essere associate ad un pagamento su conto corrente secondo la tariffa prevista. E adesso parliamo di sanità. Il tumore del pancreas colpisce ogni anno oltre mille persone nel Veneto, 12 mila in Italia. È una forma di cancro aggressiva e molto diffusa. Serve seguire uno stile di vita sano per ridurre il rischio di questo tumore in generale, ovviamente, ma anche per quello del pancreas. Uno dei particolari pericoli più grandi è il fumo di sigaretta. La ricerca scientifica però sta segnando degli importanti passi in avanti. A dirlo il dottor Davide Melisi del Policlinico Rossi di Verona. Dice è stato approvato in Unione Europea un farmaco che determina un aumento significativo nella sopravvivenza proprio del tumore al pancreas. Come vengono usati i farmaci dalla popolazione italiana? Nella maggior parte dei casi vengono prescritti dal medico, ma non solo. C'è chi utilizza il fai da te, chi magari compra un farmaco perché consigliato dagli amici. Sentiamo allora una fotografia che è stata scattata dall'Istat sugli usi dei nostri connazionali. Il 7% dei bambini fino a 14 anni consuma in Italia un farmaco al giorno. Lo afferma l'indagine Istat su tutela della salute e accesso alle cure presentata a Roma, che sottolinea come quasi un terzo della popolazione italiana il 31,1% consuma con regolarità farmaci durante l'anno, percentuali leggermente più elevate, 32,5% per le donne. Il consumo quotidiano dei farmaci aumenta fortemente con l'età, ha spiegato il rapporto realizzato con il coordinamento della regione Piemonte, dal 6,9% in età infantile fino a 14 anni, al massimo di 30,4% tra gli ultraottantenni. L'88,1% dei quasi 120.000 intervistati ha assunto farmaci su prescrizione del medico. Il 14,6% di propria iniziativa, l'1,1% su indicazione di un'altra persona. La quota di chi assume farmaci di propria iniziativa è massima tra i 14 e i 25 anni, quasi il 40%, mentre minima per gli anziani, con 9 su 10 che sopra i 55 anni li prendono solo su prescrizione del medico. Dal punto di vista territoriale, la percentuale dei consumatori giornalieri è più alta al nord-est rispetto al sud. Le regioni con il tasso standardizzato più alto di assunzione giornaliera dei farmaci sono Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna. Si è concluso con un patteggiamento 10 mesi e 20 giorni al Tribunale Militare di Verona il processo a carico di un tenente colonnello dell'esercito in servizio al 33esimo reggimento trasmissioni a Treviso che da amministratore di Palazzine De Maniali a Vittorio Veneto si è impossessato delle quote condominali pagate dai colleghi, mancando così di pagare le fatture come quelle relative alle spese di riscaldamento e trattenendo il denaro a profitto proprio. Come stanno andando i saldi a Padova? Sembra purtroppo non bene se lo scorso anno gli affari per i commercianti purtroppo erano calati. Nel 2014 si segna un ulteriore meno, quindi ancora un calo, poche le vendite. Sentiamo. I commercianti padovani sono preoccupati, i saldi ancora non danno un risultato favorevole, nessuna corsa all'acquisto con il risparmio. Le tasche dei cittadini continuano a piangere, nemmeno il ribasso dei prezzi scattato il 5 luglio ha fatto partire le compere. Secondo un'indagine eseguita dall'ASCOM, il raffronto con lo stesso periodo dello scorso anno è addirittura minore, con un calo dell'8%. Per alcuni negozianti la colpa è da attribuire anche ad alcuni negozi che effettuano le promozioni con grandi sconti fuori dal normale periodo dei saldi. Certo è che il potere d'acquisto è diminuito e forse le abitudini dei cittadini ormai sono cambiate entrando nell'ottica del risparmio e quindi di fare un acquisto quando effettivamente ce n'è la necessità. Per favorire il commercio a Padova sono state intraprese anche delle iniziative, come gli sconti nei parcheggi cittadini durante i fine settimana e la realizzazione della Notte dei Colori, prevista per il 18 luglio. Uno sguardo alla situazione meteo prevista dall'ARPAV. Il tempo per la giornata di domani sarà prevalentemente soleggiato, salvo residua nuvolosità inizio giornata e in seguito una modesta attività nuvolosa, specie sulle zone centro-settentrionali. Le piogge per domani dovrebbero essere generalmente assenti, le temperature in aumento anche sensibile, specie nei valori massimi. È tutto per questa edizione, grazie per la vostra attenzione e buona serata.